Adesso stiamo a casa, per ora non usciamo, ma ci teniamo pronti a prenderci per mano, cantando ancora insieme con gran felicità. E' stato assai crudele questo coronavirus, ha ucciso ed ha ammalato un mondo di persone, ma è pura causa nostra se c'è la diffusione, ma è pura causa nostra se c'è la diffusione. Abbiamo distrutto ambienti, cambiato anche il clima, abbiamo disboscato, ucciso ed è predato la splendida natura che era intorno a noi, la splendida natura che era intorno a noi. Credendoci padroni, signori della terra, abbiamo rotto il patto e dichiarato guerra, distrutto il biosistema e ora ne soffriam, distrutto il biosistema ed ora ne soffriam. Colpiti duramente, forse lo capiremo, che ora è necessario cambiare per davvero, che l'equilibrio è sacro e lo rispetteremo, che l'equilibrio è sacro e lo rispetteremo. Non più sopraffazione, di uomo sopra uomo, c'è siamo lo sfruttamento di terre ed animali, è questo il cambiamento che noi dobbiamo fare, il mondo che è malato un giorno guarirà. Grazie a tutti.